Ben trovati signori in questo nuovo video, oggi andiamo a vedere una strategia di trading con le medie mobili esponenziali. Tralasciamo tutta la teoria su cosa sono le medie mobili e andiamo a vedere subito sul concreto come si possono utilizzare. Se non avete una versione premium di TradingView vi consiglio di utilizzare un indicatore come questo qui, EMA 2050-100-200 di Dr. Sweet. Oppure ce ne possono essere molti altri, vediamo, uno si ha multi EMA che come vedete ne disegna parecchie e poi voi le potete personalizzare cliccando qua, andando su Input e mettete il parametro che più vi interessa. Però in questo caso specifico andiamo a prenderci le nostre medie esponenziali e che cosa andiamo a notare? Andiamo a notare che il modo in cui lo possiamo andare ad utilizzare è sugli incroci, ma più nello specifico con una sorta di strategia breakout, molto ma molto semplice. In quali time frame si può utilizzare? In qualunque time frame. Si può automatizzare questa strategia? Sì, si può fare, però adesso andiamo a vedere come applicarla in modo manuale. Se volete e vi interessano altre strategie automatiche guardate tutti gli altri video del mio canale. Allora, che cosa vado a notare? Vado a notare che in questa situazione qua ho un breakout strutturale. Che cosa significa? Che il mio grafico stava facendo dopo una discesa, si era schiacciato e mi stava creando questo range. Quindi io qui avrò una zona di supporti, resistenze, supply e demand, insomma i nomi possono essere molteplici. E che cosa vedo? Che c'è stata questa rottura con questa candela molto ma molto cicciotta. Quindi che cosa posso fare? Posso decidere di andare a piazzarmi il mio ingresso all'apertura della candela successiva, se apre dello stesso colore. Qua vediamo che ha aperto per un momento a ribasso, perché vedete se ha fatto questo spike sotto significa che la candela ha aperto prima sotto e poi è risalita su e poi è chiuso qui. Però io l'apro così, dove vado a piazzare il mio stop? Allora i più conservativi potrebbero dire all'ultimo swing, quindi qua sotto. Però è chiaro che vado a ridurre il mio risk reward. Quindi l'ideale, soprattutto in un grafico a 4 ore dopo una candela così cicciotta, è lasciarlo più o meno a questo livello. E il take profit? Take profit è una strategia del genere già 1 a 1,5 ma poi è chiaro che uno può reggere e arrivare a numeri più alti. Come si fa a stabilire? Si parte così. Allora sicuramente a 1 a 1,5 su una strategia in H4 si valuta un break even, quindi la messa a pari di un determinato trade. Nel momento in cui io mi disegno la mia bella trend line, ok, dico se arriva qua, mi metto un alert, a questo punto mi metti il prezzo a break even. Quindi cosa faccio? Vado a ridurre il mio profilo di rischio. Da questo momento in cui tutto quello che succede è a favore mio. Che cosa vado a vedere? Poi qui c'è quest'altra candela che cosa fa nello specifico? Va a fare un break out. Ma soprattutto viene rispettata la media mobile. Quindi le medie mobile, la strategia di base, ci servono diciamo così, giusto come un indicatore momentaneo. Perché appunto se vediamo che poi il prezzo inizia a ribucarle, ma in particolare queste qui sono delle medie leggere, tra virgolette, perché sono la 20 e la 50. Quelle più importanti sono queste da 100 e da 200 di periodi, perché appunto vanno a occupare un maggior numero di candele, quindi anche rispettano un periodo più lungo. Quello che poi dobbiamo andare a vedere sono i massimi e i minimi, i minimi per esempio sono sempre crescenti, non ci sono stati dei minimi decrescenti. Per cui il trend continuerà ad essere rialzista e in teoria non c'è motivo per cui il trade si possa chiudere, cioè uno volendolo può reggere anche fino a questi punti. Chiaro è che se io vado ad aprire un'operazione in H4, qua la potrei aprire il lunedì e ad oggi, che siamo il giovedì, la potrei reggere ancora. Facciamo un altro esempio però, scendiamo con il time frame a 5 minuti, quando è che posso andare ad utilizzare la stessa situazione? Sicuramente devo avere una situazione di trend, quindi minimo, massimo, minimo che è più alto di questo, massimo che è più alto di questo qua, e via, e via via dicendo, che è crescendo. Che cosa vedo? Di nuovo, qua vedo che c'è una situazione di stall e di range, poi qua c'è la rottura, ma non solo c'è la rottura, ma vedo che il prezzo si alza e si posiziona proprio in modo evidente al di sopra delle medie. Quindi, andiamo a vedere con la funzione di replay, che cosa succede? Vado avanti, ecco, vedete che il prezzo sta salendo, io posso decidere a questo punto di andare ad aprire la mia bella posizione nel momento in cui ho il breakout. Ok, qua c'è stato il mio bel breakout, come piazzo il mio trade, metto qua il mio ingresso e lo stop sotto all'ultimo swing, o se voglio stare più tranquillo sarebbe meglio, diciamo così, arrivare sotto a questo swing qua. Però è chiaro che per un risk reward, in base all'aggressività poi della vostra strategia e di quanto decidete di giocarvela e di rischiare, potete ottenere dei risultati interessanti. Anche arrivando fino a qua è abbastanza semplice. Diciamo che a 1-1,5 ne la portiamo a break-even, break-even, si tira su, arrivederci e grazie. Quindi diciamo che è molto semplice come strategia, non richiede chissà quali ragionamenti, basta semplicemente andare a vedere delle situazioni dove c'è una rottura netta ed evidente, ecco anche qua. Guardate, tac, mi piazzo qui, arrivando fino in cima, 1-4,5. Andiamo in un momento casuale, facciamo una prova indietro nel tempo, 20 marzo, 5 minuti, cacchio siamo in una zona dove ho già tradato. Ok, prendiamone un altro, 23, 23, 23, ok, vabbè. Vediamo se si riesce a trovare una situazione di breakout fatta bene, proprio in tempo reale. Io non so quello che sta succedendo, ok, però qua vedo che c'è stata questa bella rottura, potrei decidere di entrare. Quindi facciamo proprio un esperimento reale, non come quei trader che si preparano i video. Io qua vedo che c'è il breakout, sta soprattutto, dico ok. Metto a 1-2, però a 1,5 mi metto il break-even. 1,5, 1,5 sta qua. Vediamo, eh. Tac, break-even, quindi se torna indietro siamo salvi. Poi che cosa faccio? Ecco, facciamo l'esempio. Io devo decidere dove andare come target. Questa è la chiusura del giorno precedente, perché se vedete ce l'ho segnata qua come previsto dei close. Quindi io potrei anche dire di farli portarlo fino a qua. Poi vado a vedere se ci stanno degli imbalance, quindi un altro indicatore. Quindi sicuramente qua ci sarà un'altra mia zona di interesse. E vedo quello che succede. Qua c'è arrivato, potrei decidere di chiuderla oppure no. Però vedo che, ok, qua c'è stata la reazione. Quindi sì, potrei anche rimanere fregato. Però decido di reggerla. Ok. La regge ancora. Vediamo, vediamo un po'. Se fallisce si può chiudere poi. Poi uno deve anche decidere. Ok, i massimi e i minimi. Non è tanto carina, però uno se la rischia e decide. Ecco. Andiamo avanti più veloce. Qua è notte, quindi bisogna aspettare. Ritocca la media. Ecco, vedete che poi quando rientrano in gioco le medie, qua le sta ritagliando tutte, si può anche chiudere il trade. Però qua la precisione con cui è arrivato a toccare questo livello, perché c'era l'imbalance, è stata millimetrica. Quindi uno anche qua può dire, ok, chiudo l'80% della posizione e mi lascio un po', quello che si chiama un runner. Quindi un trade che corre e vediamo un po' quello che va a fare. La strategia si può applicare su tutti, diciamo così, gli strumenti. Quindi scegliete quelli che più fanno al caso vostro e vedete un po' se riuscite ad essere profittevoli con questa strategia. Fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se il video vi è tornato utile.